La tua prima sfida è raggiungi le 1500 consegne Come vecchia? Sposta! Vecchia! Sposta! Sposta vecchia! Ma come vecchia? Ma mi stava mettendo sotto, ma l'ha visto lei? Ma guarda te, ma neanche sei fermato. Vedi che t'ho visto che stavi mettendo sotto la vecchia prima, eh? Vedi che così ti fai male, frate. Vecchia, ti devi fare il monopattino, zio. Vero te lo dico. No, no, Franci, piuttosto se le cose non vanno proprio bene magari vengo a dormire da te stasera. Ti lascio che è arrivato il mio globo. Fino ad oggi hai totalizzato 185 consegne. Forza! Te ne mancano solo 1315 per completare la tua sfida. Dai, vai vedere così il mio campione. Mordi forte, dai, cazzo di carico. Questa consegna contiene delle nobili rider. Molto zenzero a parte, anche wasabi e salsa di soia abbondante. Perché non si trova un lavoro vero? Perché non si va a rompere il culo otto ore al giorno come faccio io? Ah, che se ne va nel suo bel mercato di sudicioni che non sono altro. Dici, vabbè, ma tanto è roba da buttare, non mi interessa. Vaggia vagchia. Perché non te lo vai a trovare un bel lavoro? Tutta sta massa di ladri, buttane, drogati, che non sono altro. Sta massa di fiduose, zecche, negri di merda. Perché quelli sono, negri di merda sono. Ti ricordiamo che non dovrai partecipare ad alcuna manifestazione di protesta se vorrai continuare a mantenere i punteggi acquisiti. Evita frasi come Se son rose fioriranno, se son rider lotteranno. Capito? Grazie. 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 Grazie.